Basta lamentarsi. A Fano, in via Pagano, i residenti hanno deciso di autotassarsi, comprare l'asfalto freddo e chiudere le buche da soli. Ne hanno acquistati otto sacchi in un'azienda di Rosciano, con i quali hanno ripristinato quattro pericolose buche profonde 15 cm e larghe dai 40 agli 80. Ci siamo trovati a combattere con queste buche da svariati mesi, da prima dell'inverno, e quindi ormai avevano raggiunto un livello inaccettabile, oltre allo stabilizzato, 15 cm di buco. Pertanto, oltre ad essere un pericolo per la viabilità e per le persone, abbiamo ritenuto opportuno intervenire autonomamente. Quindi abbiamo comprato l'asfalto, ce lo siamo messo e tappato, alla meglio, insomma, chiaramente non siamo dei professionisti nel lavoro stradale, però, quantomeno, cerchiamo di tutelarci e, come cercavo di spiegare, siccome ho visto che sono arrivati sino a fare dei ripristini qui a pochi metri di distanza, qui non è intervenuto nessuno, non ne conosco la ragione, non ne voglio fare polemica, ma in realtà ne sentiamo, vediamo la necessità di dover intervenire in qualche modo, perché questa zona qui è sempre stata abbandonata, dai tempi del Nevone, qui non c'è più venuto nessuno. Mi raccontava anche di una signora che ha avuto dei problemi con il passeggino, ha preso proprio una di queste buche perché è davvero pericolosa. Beh, oddio, purtroppo non si accorta, quindi spengendo il passeggino è caduta dentro con un piede, ha tirato giù lei e il bimbo che portava a bordo. Quindi, insomma, adesso cercare di darsi una mano è una cosa importante per tutti, bisogna sicuramente farlo, però chiediamo anche aiuto alle autorità competenti per poter ricordarsi che ci sono zone di Fano che hanno ancora bisogno del loro intervento. Le strade della città di Fano sono infatti spesso impercorribili, con asfalto che cede e vegetazione non curata che ostacola così la visibilità ai veicoli. L'assessore Paolini però nei giorni scorsi ha specificato che non ci sono soldi disponibili per la manutenzione straordinaria, così c'è chi è ben pensato di prendere l'iniziativa e procedere al fai da te. Grazie.